Quando pensiamo alle sfide provenienti dal Mediterraneo, continua ad avere anche posto un posto particolare, il fenomeno migratorio, con il cui carattere globale e strutturale non solo l'Italia, ma l'intera Europa deve confrontarsi da diversi anni e ancora per molti anni a venire. Soluzioni nazionali o peggio ancora nazionalistiche non hanno alcuna chance di successo. La migrazione richiede invece un approccio multilivello europeo, internazionale, fondato su principi di solidarietà e di responsabilità condivisa. L'Italia rimane costantemente impegnata affinché l'Europa sappia finalmente attuare tali principi e agire in modo coeso per il salvataggio di vite umane e per l'accoglienza di coloro che hanno diritto alla protezione internazionale e all'asilo, così come il nostro Paese ha fatto anche nei momenti più drammatici e acuti delle crisi migratorie nel Mediterraneo.